Amminacciato, aggredito e perseguitato alla vicina di casa per mesi. Arrestato dai carabinieri della stazione di Mazzarino domenica pomeriggio dopo l'ennesima aggressione alla donna per il reato di stalking un cinquantenne mazzarinese. La vittima, seguito del comportamento intimidatorio nell'ultimo mese del suo vicino di casa, è stata costretta a cambiare la quotidianità della sua vita e a vivere in uno stato di grave ansia, motivo per il quale si è rivolta ai carabinieri sporgendo denuncia. L'ultimo episodio di aggressione, bloccato in tempo dai militari, è avvenuto domenica pomeriggio quando l'uomo ha cercato di entrare a casa della vittima e nel tentativo di sfondare la porta si è anche ferito alla mano. Bloccato dai carabinieri, lo stalker è stato trasferito all'ospedale di Mazzarino e successivamente ricoverato al reparto psichiatrico del nosocomio di Gela. Grazie alla denuncia della donna che ha fatto scattare l'attività investigativa e preventiva dai carabinieri della stazione di Mazzarino, l'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, evitando ulteriori e gravi conseguenze.